Parma, 14 Mar, dopo 178 anni dalla sua unica rappresentazione, l'opera di Gaetano Donizetti Roberto De Vero torna al Teatro Reggio di Parma domani sera con repliche il 18, il 22 e il 25 marzo. Verrà presentata nell'allestimento coprodotto con il Carlo Felice di Genova e la Fenice di Venezia firmato dal regista Alfonso Antoniozzi, con le scene di Monica Manganelli e i costumi di Gianluca Falaschi. Per i ruoli dei protagonisti il Reggio ha chiamato il soprano Mariella De Via, Elisabetta, il mezzosoprano Sonia Ganassi, Sara, il tenore Stefan Pop, Roberto De Vero. L'orchestra dell'opera italiana e il coro del Teatro Reggio, preparato da Martino Faggiani, saranno diretti da Sebastiano Roli. Composta sul libretto di Salvatore Cammarano, l'opera fura presentata per la prima volta al San Carlo di Napoli nel 1837, segnando uno dei più grandi successi di Donizetti, rimase in scena quasi senza interruzioni fino al 1848 prima di essere rappresentata in Europa e America con versioni in francese, tedesco, russo e ungherese. Anza.